All'Aquila, la ventesima edizione del premio del gusto della stampa estera in Italia, che rende omaggio all'agroalimentare italiano. Questa mattina i giornalisti sono arrivati in città per una visita, presente tutto il gruppo del gusto della stampa estera. Il capoluogo è stato il palcoscenico di questa edizione speciale del premio, che ogni anno si svolge in una regione diversa e che nel tempo è divenuto rilevante nel dibattito sull'agroalimentare italiano, perché offre il punto di vista dei corrispondenti stranieri che vivono in Italia, attenti a capire e a raccontare sui giornali, in tv, nelle radio e sul web questa importante risorsa del paese. Con i suoi otto distretti alimentari riconosciuti, di cui l'ultimo è nato lo scorso 19 settembre, l'Abruzzo è centrale anche nell'economia dell'agroalimentare e sempre più attento a sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale. Vengono premiati i migliori ambasciatori del gusto italiano, tra questi la cooperativa Altopiano di Navelli. La cerimonia quest'anno è inserita all'interno di Cibac, evento del Galgranz a Sovelino. Organizzato dallo stesso Gal, con il contributo della regione Abruzzo e di altri partner. È molto emozionante, perché sono venuta altre volte, ma il mio ricordo è quello del 2009. Rivederla così, rigenerata, ricostruita, con gente che sorride, è una grande emozione, un grande piacere, questa bellissima città. Questo gruppo del gusto ha già scelto quelli che saranno i premiati. L'obiettivo è valorizzare sempre le nostre eccellenze agroalimentari? Sì, i valori agroalimentari dell'Abruzzo sono per lo più sconosciuti ai corrispondenti della stampa estera. Per cui oggi avremo questo approccio, un'investitura dell'Aquila e dell'Abruzzo come una delle capitali, non solo culturali, ma agroalimentari in Italia.